Quarta giornata di ritorno in quel di Varese per la Vanoli che dopo quattro sconfitte consecutive deve tornare alla vittoria in una partita fondamentale in chiave salvezza. C'è stata una bella reazione del gruppo dopo la sconfitta con la Virtus Bologna e una settimana di lavoro intenso. Domenica la partita sarà tosta perché comunque Varese è una scuola molto tattica, chiaramente l'esperienza di scuola è innegabile offensivamente e difensivamente dove è molto furbo, dove magari non ci arriva col fisico, ci arriva con qualche piccola giocata d'astuzia. Come detto hanno un roster molto lungo, possono mischiare molte carte, hanno giunto BIN durante la stagione dopo il fallimento di Roma. Noi dobbiamo andare a fare la nostra partita, sinceramente veniamo da buone prestazioni di squadra dove è mancato qualcosa per portare a casa dei punti contro squadre veramente forti e vogliamo tornare a vincere. Cauto ottimismo sulle condizioni di TJ Williams. Ha ripreso, c'è stato un super lavoro dei fisioterapisti, dei dottori e di torresi. Vediamo se riuscirà a essere della partita. Sta sicuramente meglio rispetto a come era la settimana scorsa oggi. Varese ha battuto Brindisi 76-74 nel recupero della quindicesima giornata. Per la squadra di coach Bulleri che ha tesserato un nuovo centro americano, John Egbanu, sarà la quinta partita in meno di due settimane. Sono tanti, sono lunghi, giocano sulle loro caratteristiche individuali. Chiaramente Scola è il faro del loro attacco e fa gravitare molto le difese su di lui. Bisogna essere bravi a toglierglielo, ma al tempo stesso non permettere agli altri di infiammarsi. Quando esci da un mese di virus non puoi essere brillante. Questa sarà la quarta partita in due settimane. Noi ci siamo passati, ci sono passate tante altre squadre. Non è la fine del mondo, perché si può giocare, dipende quanto è stato pesante il virus, quanto hanno lavorato o non lavorato, però ti dico, noi dobbiamo guardare a noi e basta.